Avvocato Panin, l'avevo portato via la parola, stavo facendo un'osservazione. Un attimo solo, c'è un messaggio, sono stufa di vedere persone che delegano tutto nella vita, la salute al medico, i figli alle babysitter, risparmi e gli investimenti alle banche, senza informarsi, senza studiare, completamente superficiali, se lo meritano. No, ognuno deve fare proprio un mestiere, semplicemente, è giusto che sia così invece, se non ci sono poi dei soprusi. Questo è corretto e anche vero, prima mi chiedeva cosa risponde la banca, la banca dice, io sono stata parte l'ESA, pure io sono parte l'ESA perché non sapevo che questo investimento che andava a portare non era così conveniente per il mio cliente. Però questo, a mio personale giudizio, è un aggravante, nel senso che la mia banca è tenuta a una diligenza che è maggiore rispetto a quello dell'uomo della strada. Ha ragione questo ascoltatore dire, bisogna imparare le cose, bisogna studiare, bisogna approfondire. Però io nel momento in cui vado dal mio funzionario di banca, dal mio direttore di banca, tendo a fidarmi, non posso pensare che lui ha omesso in modo negligente di fare le opportune verifiche. Qui c'erano dei protocolli di intesa dei contratti sottoscritti tra le due società, tra IDB e DBI, e i quattro istituti che prevedevano dettagliatamente le modalità operative, dalla fase di formazione e preparazione dei funzionari di banca, alla presentazione del prodotto al cliente e alla compilazione e la sottoscrizione dei contratti di acquisto da parte degli stessi. Quindi nel momento in cui la banca mi dice, io sono parte l'ESA, secondo me non ha ragione, perché la banca è la prima che doveva essere diligente e informarsi in modo adeguato su quello che andava a proporre al proprio cliente, a cui non puoi chiedere di diventare un esperto gemmologo o un esperto azionista nel momento in cui ti propone un'obbligazione o ti propone un'azione. Nei contratti sottoscritti erano fatto cena a queste commissioni così alte? Assolutamente no, i contratti poi erano viziati, anche il diritto di recesso aspettante ai consumatori non era esteso in modo corretto, sono stati sanzionati anche per questo da parte dell'autorità garante. Il recesso era scritto in modo incompleto e fuorviante, di tal che risultava difficile per il risparmiatore poi poter esercitare il proprio diritto di recesso. Cosa hanno proposto l'Intermarket, Diamond Business e la DBI? Un tavolo di lavoro era fissato per l'8 maggio, ultimo scorso, per trovare una soluzione. Finora noi con gli istituti bancari con cui ci siamo confrontati soluzioni non le abbiamo trovate, nel senso che ho trovato poca disponibilità, però poi il collega Zanetti spiegherà meglio quali sono le modalità operative. C'era stata la proposta di un tavolo di lavoro, però 8 maggio non è risultato nulla, nel senso che le banche non hanno partecipato, anche i clienti hanno partecipato, purtroppo il 14 maggio c'è stato quell'evento tragico, la morte dell'amministratore in circostanze strane, evidentemente tutto ciò non aiuta il dialogo, non aiuta la ricerca di una soluzione concertata su un tavolo di lavoro. Molto molto più complicata. Soluzione che si deve trovare, perché adesso Feder Contribuenti ha, la Sting meglio magari tu, dell'idea molto chiara su quello che deve proporre a questi investitori che si sentono in qualche modo raggirati o che sentono che è stato il loro consenso a firmare questo contratto viziato. Assolutamente. Allora, ci sono dei venditi tra l'altro coinvolti, 4 padovani sappiamo, magari altre persone. Beh, ma ce ne sono centinaia nel senso che da quando abbiamo iniziato la comunicazione che continueremo sono arrivate decine di richieste di assistenza, di vaglio di quelle che sono le problematiche, tant'è che abbiamo iniziato a raccogliere la documentazione necessaria che non sono molti documenti, sostanzialmente c'è il contratto di vendita sottoscritto in banca con la banca e con la società e due o tre estratti conto sostanzialmente di quelli che erano le quotazioni, né più né meno. I diamanti alcuni ce li hanno in casa, altri ce li hanno in cassetta di sicurezza a pagamento come dicevo prima, per cui assolutamente il primo consiglio è quello di andare a ritirare queste pietre e di tenerle al sicuro, magari non nella stessa banca ma in un altro luogo assolutamente sicuro. alcune banche stanno promettendo di riacquistarli, quindi stanno facendo sottoscrivere dei mandati a rivendere, ecco io assolutamente in questa fase lo sconsiglio perché io temo che sia assolutamente un modo per la banca di procrastinare diciamo lo scoppio definitivo della bomba, ovvero il fatto di perdere ancora tempo per nulla, quindi quello che noi vogliamo fare non è assolutamente una class action per le ragioni che ho sempre detto nelle trasmissioni qui e altrove, ovvero sia che in Italia la class action non è ancora pronta per essere utilizzata in modo omogeneo, quindi azioni individuali, azioni mirate per accertare l'annullamento o l'annullità del contratto. Il fatto che ci sia un esborso di denaro mi fa pensare, ecco io che ho sempre avuto negli anni molte cause contro le finanziarie per gli acquisti delle multiproprietà, mi viene sempre in mente questo, il collegamento fra il contratto di vendita e il contratto di finanziamento, qui non c'è un contratto di finanziamento ma sta di fatto che lì nelle multiproprietà veniva venduto un bene indeterminato che valeva 1000 euro a 20.000 euro qui stiamo parlando invece di un bene che magari ne valeva 2, è stato venduto a 10, quindi c'è un rapporto di collaborazione di stretta collaborazione fra le società che procuravano i diamanti e le banche, quindi si può agire nei confronti congiuntamente della società e della banca. E voi state cercando di fare questo? Assolutamente. Quindi consiglio a chi avesse questo tipo di investimento o non ha sentito parlare di raccogliere la documentazione e di mandarla alla federcontribuenti a info.it e nel momento in cui ci sono sostanzialmente quattro macro situazioni che sono delle quattro banche. A me sono stati venduti con la rassicurazione che il valore dell'oro sarebbe crollato mentre i diamanti avrebbero guadagnato, che differenza fa tra oro e diamanti MV? E lì la differenza è semplicemente che l'oro ha un peso e in base a quella che è la... Forse anche l'oscillazione dei mercati. Sì, però comunque l'oro è quello, un chilo d'oro vale X. Invece un diamante in base alle caratteristiche, non è solo il peso, ma sono il taglio, la purezza, la lucentezza e quant'altro che fanno la differenza. Quindi attenzione a chi ci ha scritto, comunque rivolgetevi, informatevi bene. Siamo in chiusura. Ultima cosa. No, velocissimo. Velocissimo. Ha ragione chi ha scritto. Il mercato dei diamanti aveva delle fluttuazioni e delle oscillazioni, le ha. Il problema è che non veniva al cliente spiegato che c'era questa fluttuazione, venivano rappresentati dei grafici... Che non erano rispondenti a nero. Che non erano reali, perché erano stabilmente in assenza. E chi ci si può fidare? Basta. Mamma mia, vabbè, torniamo a parlare di questo. Un altro messaggio. Mi hanno proposto di aderire a una class action per recuperare i miei soldi. Mi posso fidare? Allora, io non posso sapere così, su due righe, chi gliela ha proposto e quant'altro. Io, probabilmente anche il collega Panin, non siamo propensi alle class action perché in Italia hanno uno sbarramento. Dobbiamo avere una situazione identica. Identica significa che devono essere le stesse controparti, lo stesso prodotto, lo stesso prezzo e quant'altro. Quindi informarsi bene e magari fare un confronto. Ecco, perché è inutile versare qualche centinaio di euro di fondi spese e quant'altro perché poi venga compilato un modulo e non fatto nulla. È necessario assolutamente che venga fatta un'azione individuale, mirata, possibilmente con un ricorso sommario perché è anche più veloce, in modo tale che nel momento in cui viene depositato un ricorso con tutta la documentazione necessaria, nell'arco di quattro mesi, cinque, si ottiene il risultato. Detto questo noi torneremo a parlare di questo argomento, comunque scriveteci, anzi scrivete direttamente a Fedel Contribuenti che vi possono risolvere i problemi. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi di averci seguito. A domani. Ciao. 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 Grazie.